È chiaro che la preoccupazione emerge da una serie di, non so se sono coincidenze, comunque da un momento nel quale tutti i noti stanno vedendo al pettine. All'interno del porto c'è una difficoltà, una difficoltà oggettiva rispetto a una richiesta di mantenimento di lavoro e di una richiesta di sviluppo soprattutto, perché chi ci lavora è giusto che tuteli il suo diritto. Chi non ha lavoro, noi avendo fatto già una scelta da città che poteva essere turistica, a città industriale abbiamo solo quelle risorse lì, quindi con Enel è successo quello che è successo e l'abbiamo affrontata a livello comunale, col tavolo e regionale soprattutto e sembra che si stia andando avanti perlomeno nei dialoghi e nei colloqui. Con quest'altro problema, che è un problema di rilevanza strategica anche all'interno del porto, la regione è giusto, ha ragione il presidente della compagnia portuale, la regione deve fare anche questa volta la sua parte. Mi risulta che c'è un tavolo già convocato, affronteremo il problema a quel tavolo, l'assessore Alessandri è assolutamente già messo informato della situazione, vediamo quello che si può sviluppare all'interno del tavolo.